Sono Alberto Marisio, abbiamo deciso di creare questa mostra in omaggio di Trento Lungaretti visto che è il centesimo anno, il suo compleanno quest'anno, c'è tanti. L'idea per questo progetto è nata quattro anni fa, fino al 2012, vedendo sempre e solo le sue opere, poteva essere anche interessante vedere anche come lavorare, come lui lavorava. E c'è stata l'occasione quest'anno di poterlo presentare proprio in occasione delle varie iniziative che stanno facendo a Bergamo per il suo centesimo anno. Abbiamo avuto l'idea di presentare questa mostra qui a Artilab, uno spazio gestito dai giovani artigiani di Bergamo. Infatti ringrazio anche Nicola Viscardi, Diego, Carmelo, che appena ho presentato questa mostra sono stati subito entusiasti. Abbiamo deciso di presentarla in questo spazio anche perché comunque Lungaretti è sempre stato un artigiano. Quindi sarà dal 7 di luglio fino al 17 di luglio qui in Artilab in via Borco Palazzo 93 a Bergamo e in occasione anche di Artunite, la notte bianca dell'arte, sabato sera fino alle 24.00. Grazie a tutti!